E' stato prorogato al 31 dicembre 2017 il termine per la presentazione di istanze abitative in materia edilizia al fine di incrementare i volumi della propria abitazione consentiti dalla legge regionale numero 14 del 2009. Una decisione presa per venire incontro a quei cittadini che per motivi di disponibilità economica legata alla crisi non sono stati nelle condizioni di accedere alle misure di sostegno. Con due distinti emendamenti è stato previsto per gli edifici non residenziali che possono essere effettuati ampliamenti limitatamente a quelli di volumetria massima pari a mille metri cubi e che non possono essere poi destinati ad uso residenziale qualora ricadano all'interno delle zone territoriali omogenee. Approvato anche un emendamento bipartisan avanzato da PD e COR relativamente ai condomini. E' stato così regolamentato il recupero abitativo dei sottotetti negli edifici condominali stabilendo che se il sottotetto è parte comune l'intervento sarà ammissibile previa deliberazione condominiale e che se invece di proprietà individuale l'intervento sarà ammissibile previo assolvimento dell'obbligo di comunicazione. L'approvazione della proroga al piano casa è un passo importante e atteso dai cittadini. Si tratta di misure che rigenerano il patrimonio edilizio esistente, migliorano la qualità architettonica, la sostenibilità ambientale l'efficienza sul piano dei consumi. Si spera che per il prossimo anno si giunga all'approvazione di una disciplina unitaria degli interventi, magari estesa anche alla possibilità di consentire ai comuni di derogare con gli strumenti urbanistici alle distanze tra gli edifici.